Ti benediciamo e ti glorifichiamo di Eterno Padre di tutti noi. Ti ringraziamo perché hai concesso alla nostra comunità cristiana di avere tra le sue case questo Tempio Santo. E' la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amore. E' una giornata di gioia per noi, anche una giornata d'estate, vedete il sole di Napoli. La presenza e la benedizione della Chiesa San Gennaro dalla Civescovo di Napoli conclude una grande avventura che era di restituire la spiritualità di questa Chiesa San Gennaro del Bosco di Capodimonte alla città di Napoli, al quartiere, a tutti gli amatori e amanti del Bosco di Capodimonte. Abbiamo sentito oggi parlare d'arte, di bellezza, di spiritualità, di fede e di ritorno alla pace, di sicurezza. E questo è il senso intero di questo bosco. è il senso nel nostro lavoro e la Chiesa San Gennaro del Bosco di Capodimonte è proprio il simbolo di questa spiritualità, direi post-Covid, con un rapporto più stretto, più intimo, più rispettuoso con la natura.